si tratta di quattro funghi mori più o meno i primi sono più di un chilo e le più grossi l'altri sono due etti e mezzo tre etti trovati tutti in un posto una cosa da sballo da andare fuori di testa eccola qua guardate qua questo è più di un chilo quest'altro stessa cosa guardate il gambo non riesco a chiuderlo con la mano insomma sono all'incirca due chili e mezzo di funghi